Emergenza coronavirus, secondo giorno di fila senza decessi in Basilicata, in calo il numero dei casi covid, 1123 tamponi processati con 63 positività di cui 54 relative a Lucani, al via Melfi in Val d'Agri la tre giorni di screening negli istituti superiori. E intanto sulla fase 2 della campagna vaccinale salta l'ipotesi di coinvolgere sin da subito gli over 75. Il governo centrale ha infatti smentito i programmi della Basilicata, ribadendo che bisognerà partire dagli ultraottantenni. Facoltà di medicina al via dall'anno accademico 2021-2022, la giunta regionale formalizza il parere favorevole prendendo atto del regolamento didattico varato dall'Ateneo. Il presidente Bardi un ulteriore passo in avanti per la concreta attuazione dell'accordo di programma. Omicidio abruzzese, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 18 anni di reclusione per Dorino Stefanotti, il responsabile della morte del 45enne ucciso a Potenza, nella notte tra il 28 e il 29 aprile del 2013. Al via da ieri la lotteria degli scontrini, iniziativa dell'Agenzia delle Entrate per favorire l'utilizzo delle carte di credito, evitando il contante. Ma per Confcommercio è inopportuna, visto il momento, meno di un terzo degli esercizi commerciali nella nostra regione non ha provveduto ad aggiornare registratori. Buongiorno dalla nuova TG. In primo piano c'è l'emergenza, coronavirus, contagi in calo e nessun nuovo decesso per il secondo giorno consecutivo. E nella casa di riposo, il sorriso di Brienza, ci sono i primi guariti. Intanto i casi attuali in Basilicata scendono sotto quota 4 mila. Sentiamo, Michelangelo Russo. Nessun decesso, appena due ricoverati nelle terapie intensive, curva epidemiologica in netto calo. Confermata la brusca frenata del virus anche in Basilicata. Per il secondo giorno consecutivo non si registrano vittime, mentre in una settimana i casi attuali si sono ridotti di un terzo. Altra sforbiciata, infatti, sul numero dei negativizzati in Basilicata. Persone cioè già guarite da tempo, ma mai conteggiate, tramite il bollettino della Task Force con cui si comunica lo stato dell'epidemia in Basilicata ai Lucani. Oltre un migliaio in meno, soltanto oggi, alla voce positivi, con un dato che ora è anche inferiore ai 4 mila casi attuali. 1.123 test eseguiti ieri, 54 i Lucani residenti positivi, 19 coloro che hanno sconfitto il virus nelle ultime 24 ore. Stabile la situazione nelle strutture ospedaliere, con 74 degenti di cui due sotto osservazione nel reparto di terapia intensiva al San Carlo. 8 casi a Matera, 7 a Potenza e Melfi. A Maratea, a seguito del caso di positività che ha portato alla sospensione della didattica in presenza della scuola primaria San Giovanni Bosco, ieri è stato effettuato uno screening con tampone antigenico rivolto alla popolazione scolastica e il personale docente e non docente. Tutti con esito negativo. Ottime notizie giungono anche da Brienza, 14 guariti di cui 12 afferenti alla casa di riposo Il Sorriso 2, tra personale e ospiti. E nelle prossime ore il numero dei restanti positivi nella struttura, 44, potrebbe scendere ancora. Al Via, invece, oggi a Melfi e Villa Dagri, una tre giorni di mappatura su studenti, professori e personale ata di rientro nelle scuole superiori. 2.000 i test al giorno previsti nella città federiciana, altre tanti in tutto il territorio valdagrino. Infine il capitolo vaccini, 16.890 le dosi inoculate in un mese circa, pari all'81,3% di quelle consegnate, 5.660 i lucani che hanno ricevuto anche la seconda dose. E intanto sulla fase 2 della campagna vaccinale, salta l'ipotesi di coinvolgere sin da subito gli over 75. Il Governo nazionale ha infatti smentito i programmi della regione basilicata, ribadendo che bisognerà partire dagli ultraottantenni. Fabrizio Di Vito. La possibilità che qualche regione potesse muoversi in autonomia ha portato il Governo a fissare dei paletti ben precisi. La seconda fase della campagna vaccinale, destinata a slittare di alcune settimane dopo i ritardi di Pfizer nella consegna delle dosi rispetto al cronoprogramma iniziale, dovrà riguardare la popolazione over 80. E' quanto hanno ribadito il Ministro della Salute, Roberto Speranza, e il commissario straordinario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri, durante l'ultima conferenza Stato-Regioni. Un chiarimento che ha prodotto inevitabili ripercussioni sui piani della regione basilicata, dove la task force aveva ipotizzato di dedicare la seconda fase della vaccinazione di massa ai lucani over 75. E così il responsabile della task force, Ernesto Esposito, non ha potuto far altro che inviare una comunicazione a tutti i sindaci lucani con le nuove linee guida sui vaccini. I cittadini interessati dalla fase 2 della campagna vaccinale dovranno compilare il modello di consenso informato, sia per quanto riguarda il vaccino Pfizer che per quello Moderna, dal momento che ad oggi non è possibile prevedere, secondo le indicazioni fornite dal commissario Arcuri, se saranno garantite le dosi necessarie da Moderna o Pfizer. Sono tanti quindi nodi da sciogliere. L'auspicio è che la consegna delle dosi possa tornare il prima possibile al regime. Nei prossimi giorni, governo e regioni torneranno a riunirsi, perché sul tavolo c'è anche la questione del terzo vaccino a breve disponibile, quello AstraZeneca, raccomandato però solo per persone di età compresa tra i 18 e i 55 anni. Restiamo all'ambito sanitario, a grandi passi verso l'attivazione della facoltà di medicina e chirurgia in Basilicata. La giunta regionale ha infatti ratificato il regolamento didattico dopo la sottoscrizione dell'accordo di programma con i ministeri dell'Università e della Salute. Il servizio è di Mario Lina Notargiacomo. L'attivazione della facoltà di medicina e chirurgia in Basilicata ottiene il via libera della giunta regionale. Il governo lucano ha ratificato il regolamento didattico di Ateneo del corso di laurea magistrale a ciclo unico presso l'Università di Basilicata, integrato dalle osservazioni contenute nel parere favorevole del Consiglio Universitario Nazionale che ha inserito fra le conoscenze da acquisire quelle relative alle differenze e alle patologie di genere, alle malattie rare e alle cure palliative. Dopo l'approvazione dell'accordo di programma siglato da Regione Unibas e dai ministeri dell'Università e della Ricerca Scientifica e della Salute e dopo i pareri favorevoli espressi dal Comitato regionale di coordinamento e dal Senato accademico, l'Unibas ha definito il regolamento didattico i cui obiettivi specificati attengono alla formazione di medici dedicati all'attività assistenziale dotati delle basi scientifiche, della preparazione teorico-pratica necessaria all'esercizio della professione medica e delle competenze di base che permettano, viene specificato nel regolamento, ai futuri medici di comprendere, sfruttare e governare in modo consapevole le opportunità che lo sviluppo delle nuove tecnologie sta portando nell'ambito medico. Un ulteriore passo in avanti per la concreta attuazione dell'accordo di programma siglato con i ministeri, ha commentato il presidente della Regione Bardi. Spetta ora all'aggiunta l'approvazione del protocollo d'intesa per lo svolgimento delle attività assistenziali e le modalità per l'integrazione delle attività didattiche di ricerca, quelle per il coinvolgimento dell'Ateneo nella programmazione sanitaria regionale e per la verifica dei bisogni del territorio, prevedendo che le strutture assistenziali essenziali alle esigenze della didattica e della ricerca possano essere individuate nelle aree e nelle unità operative delle aziende sanitarie. Per l'attivazione del corso di laurea in medicina, la Regione, ricordiamo, ha stanziato 3 milioni di euro per il primo anno e 4 milioni per i successivi, integrando il finanziamento di 10 milioni di euro previsti nel piano 2012-2024, fondi ai quali si aggiungono i 2 milioni all'anno stanziati dal MIUR fino al 2023 per sostenere i costi di funzionamento e i 3 milioni all'anno assicurati dal Ministero della Salute per implementare la ricerca sanitaria. Passiamo all'ambito dei trasporti. Le segreterie regionali di Filt CGL, Filt CISL, Wiltrasporti e Faisa CISAL fanno sapere che gli autoferro tramvieri di Basilicata aderiranno allo sciopero nazionale dei trasporti indetto per lunedì 8 febbraio. Lo stop per il settore pubblico locale è di 4 ore. Il Cotrab fa sapere che verranno comunque effettuati i servizi minimi essenziali compresi nelle due fasce di garanzia. In questo contesto le corse partite dal capolinea nella fascia non in sciopero verranno portate a termine senza alcuna interruzione anche se l'arrivo a destinazione dovesse trovarsi nella fascia dello sciopero. Il Consorzio, fa sapere il Presidente Vinella, ritiene che lo sciopero in programma per le modalità di effettuazione procurerà disagia l'utenza, mitigate dal rispetto delle fasce orarie relative ai servizi minimi essenziali, da garantire i sensi della legge 146 ed eventuali altre corse che potrebbero venire effettuate per disponibilità del personale per le quali si provvederà con appositi avvisi. Adesso la pagina della politica, crisi in regione e numeri che mancano. Bardi fa i conti con il pallottoliere e convoca assessori e consiglieri per un tavolo di maggioranza mentre Fratelli d'Italia si prepara ad accogliere quarto e baldassarre. Celestino Benedetto. Nel pallottoliere del Presidente Bardi rischiano di venire meno 3-4 voti rispetto alla maggioranza di 13 consiglieri regionali. Il confronto in Casa Lega ha messo a nudo tutte le difficoltà politiche del partito di maggioranza relativa, consegnando al Commissario Marti un messaggio poco rassicurante da recapitare al Governatore. Dal vertice romano della scorsa settimana, con i segretari dei partiti di centrodestra, il Presidente dell'Aggiunta regionale ha preteso di avere l'esatta consistenza della maggioranza. Senza più spazio per mal di pancia passeggeri, beghe interne e sgambetti capaci di mettere a rischio l'azione dell'Aggiunta. Un discorso di numeri prima ancora che di equilibri tra partiti e di rimpasto. La riunione del gruppo consigliare della Lega alla presenza del Commissario Marti e del Senatore Pepe si è svolta senza eccedere nei toni. Ma il dato emerso è tutt'altro che rassicurante, a partire dall'approvazione del DDL sui consorzi. Una riforma che continua a registrare l'ostracismo palese di almeno tre consiglieri leghisti, oltre al malessere lamentato dal materano viziello di Fratelli d'Italia. Temi al centro della riunione di maggioranza con Bardi, gli assessori e tutti i consiglieri convocata per oggi. Sul tavolo anche il sempre più imminente ingresso di Pier Giorgio IV e Vincenzo Baldassarre, con l'irrobustimento della pattuglia consigliare di Fratelli d'Italia. L'ufficialità nella prossima settimana. La cronaca sindacale, la RSU Unitaria Smart Paper, di FIM, FIOM, Wilm e Fismich, dopo l'acquisizione del 70% delle quote azionarie da parte della Minsait, società della spagnola Indra, ha chiesto un incontro urgente per aprire le relazioni sindacali rispetto al nuovo assetto societario, alle politiche di lavoro e alla contrattazione di secondo livello, ferma dal 2019. Vista l'acquisizione da parte di un gruppo così grande, evidenziano i sindacati, e in attesa della presentazione del nuovo piano industriale, l'auspicio è che i livelli occupazionali vengano garantiti e che si dia vita ad un processo formativo che coinvolga tutti i lavoratori. Oggi si terranno le assemblee con i lavoratori alla presenza delle segreterie regionali. L'organo assembleare della comunità del Parco del Pollino, che riunisce tutti i sindaci del territorio ricadenti nell'area protetta, le province, le regioni Basilicata e Calabria, si è riunito a Castrovillari e attraverso votazione a scrutinio segreto ha proceduto al rinnovo dei componenti dei rappresentanti della comunità del Parco in seno al Consiglio Direttivo. Due sindaci lucani eletti nel direttivo, la prima cittadina di Chiaromonte, Valentina Viola, e il sindaco di San Paolo Albanese, Mosè Antonio Troiano. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A fra poco. SACAR Service, vendita vetture, veicoli nuovi e usati, ricambi originali e assistenza qualificata. Vieni a trovarci in tutta sicurezza nel nostro showroom dove troverai il mezzo perfetto per le tue esigenze. dal più grande al più piccolo. SACAR Service, competitività, competenza e cambiamento in via dell'edilizia a potenza. La ITM SRL opera dal 1997 su tutto il territorio nazionale ed estero con la fornitura e pose in opera di progettazioni chiavi in mano, installazioni e assistenza con sopralluoghi gratuiti di capannoni in struttura metallica, legno lamellare, cemento armato e celle frigorifere ad uso industriale. ITM SRL a San Cataldo di Bella, potenza, innovazione, tecnologia e lunga esperienza. ITM SRL, il gruppo, la nostra forza. E dopo la pubblicità riprendiamo il nostro TG con la cronaca. Gli agenti della polizia di Matera hanno aiutato un uomo anziano materano che nella notte scorsa si aggirava disorientato nei pressi della chiesa del purgatorio nella città dei Sassi. Gli operatori della squadra volante lo hanno rintracciato poco dopo la mezzanotte. Attraverso un'agendina posseduta dall'anziano sono stati individuati e contattati i suoi parenti. Sul posto è giunto infine il figlio a cui è stato affidato l'uomo. Adesso la cronaca giudiziaria con l'omicidio abruzzese. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 18 anni di reclusione per Dorino Stefanutti. I particolari da Rocco Romanelli. Alla base della lite un regolamento di conti probabilmente legato al business delle slot machine. A perdere la vita nella notte tra il 28 e il 29 aprile del 2013 fu donato abruzzese ucciso con 11 colpi di pistola calibro 9 in via Parigi a Potenza dove abitava. Ad ucciderlo Dorino Stefanutti di 62 anni. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 18 anni di reclusione per il 62enne Potentino giudicato colpevole per l'omicidio di Abruzzese. Nell'aprile del 2019 la Corte d'Assise d'Appello di Salerno condannò Stefanutti a 18 anni dopo che nel 2017 la Cassazione aveva disposto l'annullamento con il rinvio degli atti della condanna a 20 anni emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Potenza. Il procedimento di primo grado era stato celebrato con il rito abbreviato. Stefanutti dopo essere rimasto ferito a seguito della lite che lo portò a uccidere abruzzese fece perdere le sue tracce per diverse settimane nelle contrade di Potenza. In seguito si costituì alla polizia il 3 maggio del 2013. I carabinieri di Pisticci durante un servizio di controllo del territorio teso alla prevenzione e al contrasto dei reati in materia ambientale e alla lotta al degrado hanno individuato e subito messo in sicurezza una discarica abusiva a cielo aperto di circa 10 metri quadri situata lungo una strada interpoderale adiacente alla SP3 in Contrada Serra Marina di Metaponto nel comune di Bernalda. Sul luogo i gnoti hanno abbandonato rifiuti di vario genere come potete vedere nella foto fra cui spazzatura domestica rottami ferrosi e materiale plastico. oltre ad attivare le indagini per rintracciare responsabili dell'illecito abbandono di rifiuti i militari hanno provveduto a contrassegnare e delimitare l'area segnalandola immediatamente al comune per il ripristino dello stato dei luoghi e la messa in sicurezza. Al via da ieri la lotteria degli scontrini in iniziativa dell'Agenzia delle Entrate per favorire l'utilizzo delle carte di credito evitando così il contante ma per confcommercio inopportuna visto il momento meno di un terzo degli esercizi commerciali nella nostra regione non ha provveduto ad aggiornare i registratori Isabella D'Andrea E' partita la lotteria degli scontrini facendo acquisti con carte Bancomat e presentando alla cassa l'apposito codice si potrà partecipare alle estrazioni mensili la prima l'11 marzo e a quelle settimanali che inizieranno da giugno ma si potrà anche vincere un super premio da 5 milioni previsto per l'estrazione annuale a gennaio del 2022 la lotteria è collegata al programma Italia Cashless quello del cashback di Stato già partito a dicembre pensato per incentivare i pagamenti elettronici ma confcommercio lancia l'allarme meno di un terzo degli esercizi commerciali nella nostra regione ha provveduto ad aggiornare i registratori telematici ed acquistare il lettore ottico per la lettura del codice lotteria con una spesa media di 300 euro per confcommercio potenza è un costo esagerato e inopportuno soprattutto per i commercianti in una fase estremamente difficile in cui molti commercianti hanno notevoli difficoltà finanziarie a causa della crisi economica dovuta alla pandemia in corso inoltre per gli adeguamenti servono oltre un'ora e mezza e c'è un problema oggettivo legato alle difficoltà tecniche di chi dovrebbe approntare lo strumento di rispondere alle richieste e non si sottovaluti ulteriormente evidenzia confcommercio il problema di costo per l'esercente della moneta elettronica vale a dire le sose commissioni bancarie se si vuole andare verso la moneta elettronica serve un azzeramento vero delle commissioni i costi superano i benefici conclude l'associazione di categoria e i negozi non hanno avuto il tempo per adeguarsi il prossimo 5 febbraio sarà la giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare a darne notizia e io potentino l'associazione impegnata quotidianamente sul territorio attraverso il progetto magazzini sociali che in ormai 5 anni di attività ha raccolto più di 53 tonnellate di alimenti altrimenti destinati alla distruzione distribuendoli ai nuclei familiari aderenti al progetto l'associazione è parte attiva della rete 29 settembre è composta da realtà che a livello nazionale svolgono attività legate al tema del diritto al cibo e proprio il 5 febbraio dalle 12 alle 13 sarà parte di una diretta facebook in cui da 5 piazze italiane tra le quali potenza saranno illustrati i 5 punti del manifesto del food pride e per questa edizione è tutto vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di giornata grazie a tutti